bella raga siamo by videogames e vi faremo vedere due bug uno scoperto da francesco e un altro visto da un canale francesco all'opera il primo l'ho scoperto adesso cercando di aspettare quell'altro e ho notato che se c'è un auto nel vialetto dove c'è che vi dico qua qua praticamente se vi nascondete se vi nascondete e da questi cespugli magicamente può fare una luce perché c'è nel senso seppe se si alza magicamente scompare potrebbe essere un alieno la luce di un ufo che stai dicendo la scuola appunto e poi guardate non ha fatto vedere non aspetta se io provo a togliere l'auto c'è dove deve essere esserci per forza un'auto almeno prima ci ho provato e come dire non funziona ingegno appunto è solo quando c'è l'auto vedete c'è l'auto la il riflesso va solo sull'auto io provo a spostarla ma si abbiamo capito avete capito che questo è parte diciamo funziona se qua c'è un'auto avevo in la zona si illumina tutto il vialetto adesso il secondo pagano scoperto da uno uno youtube per se da 300.000 visualizzazione ma noi dobbiamo cercare no solo basta entrare in queste tendine vedete che sono spuntare cioè io sto sparare lì a vedere tendine qua invece se vedete il colpo se va fuori perchè sta diventando grigio lo fermo noi poter entreremo in una specie di ufficio che ci baggherà il gioco e tra un pochissimo tempo ritorneremo qua ok adesso vi faccio vedere un po' il po' il paesaggio cioè il posto e vedi e rimetti sulla mappa dov'è? ah scusate ecco qua proprio perchè si sono spente? un altro bug un altro bug vabbè ehm x qua precisamente da perfetto ehm per vedere un po' dentro dovete mettervi di di profilo la pistola e bravo sceno spara spara hop 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 guardate come gira ok finite così No, questo qua lo fa il... lo fa Mario, perché io non so farlo. Dov'è? C'ho dietro. Spera, vediamo, c'è un'auto dalla polizia. Naturalmente la luce. Quando ci alziamo, sparisce. Ti quadri di farlo. No, per me hai fatto... Vedete? E la pistola cos'è che in mano? Niente. Un altro bug. Puoi sparare. Spari con le dita, praticamente. Bom 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 bom. Passa, voglio mangiare una granata. Sparisce. Oh. Oh. Ok. Cazzo è. No, se c'è la pompa non te lo dono so. Che cazzo. Sotto c'è il vuoto. Ah, quindi passa un attimo. Quindi se... Mi sembra che se prendiamo la parte più chiara, cadiamo. Quindi io cerco di prendermi. Ma che... Come cavolo fai? Io. Bene il tutorial. Ma che il tutorial? La scoperta? Cato di testa. Visto bug. C'è uno è nostro, l'altro è nostro. Boh, chi l'ha scoperto non lo sappiamo. Vabbè. I video si conclude qui, dopo un back metico non preso. No, aspetta l'ultima cosa che vi voglio far vedere troppo aperto prima. Il lancio più doloroso di tutti. Per far andare più lungo il video. Tenta è un uau 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 uau. Talla da suicidare. Se mi ricordo dove. Va bene, non era là. No, non mi ricordo. Va bene, benissimo. Aspetta l'ultimo volo. Perchè non salto? Oh, la capaiola. Ce l'ha fatta ragazzi, ce l'ha fatta. Finisce qua con una capaiola. Ok, il video si conclude qui. Bella ragazzi, ci vediamo al prossimo video di scoperte, di bug, di tutorial. E arrivederci.